Non è stato facile dal primo giorno che tu sei entrata qua dentro per me, fuori. Noi lo sapevamo che poteva uscire il passato. L'abbiamo parlato tante volte, eravamo forti. La tua voglia di verità. Un giorno, due, tre, quattro, una settimana. Ma per tre settimane, H24, non hai fatto altro che parlare di dieci anni fa. Ma in un modo che io non ti ho fatto fatica a riconoscere. Non solo hai parlato del tuo passato, ecclissando il tuo presente. Sai cosa ho dovuto subire io fuori? Tu non hai idea. Mi hanno tritato. Anche perché da tutto questo tuo ambaradan, sai cosa è emerso? Che io e te ci siamo invocati a un matrimonio. Pensa alla follia. Pensa alla follia. E che tu sei ancora innamorata e che io sono la cogliona di turno. Io mentre lavoravo mi arrivavano i messaggi. Ma cosa aspetti? Ma esisti? Per davvero? Pensa uno mi ha fatto vedere le tue volte che hai nominato quella persona. Sette frasi di me. Cioè doveva essere il contrario diciamo. Mi ha fatto male. Tu dici che il tweet t'ha fatto male perché non hai potuto rispondermi, no? Tre settimane. Ma tu qua dentro sei protetta. Tre settimane sentire e vedere cose e non poter rispondere. Ma non ho mollato. Ti ho difeso? Ho difeso la nostra storia. Ho difeso la nostra storia.